Ed ora lasciamo il mercato contadino di Porta Paola per spostarci nell'alto ferrarese ed andare a conoscere l'importante esperienza di un produttore di meloni, Mario Preti. Siamo con Mario Preti, un'azienda ormai decennale, fatte meloni da quanto? Già da un paio di generazioni, quindi sicuramente una quarantina di anni che produciamo meloni e angurie. Quanti ettari avete? Sono intorno ai 90 ettari, metà angurie e metà meloni. Che tipo di meloni coltivate qui? I meloni coltivati sono meloni retati, tipologia supermarket e abbiamo anche meloni precoci che sono tipologia Harper, quindi meloni sempre retati che non segnano praticamente la fetta e abbiamo anche meloni lissi, quindi tipologia Honey Moon. Com'è andata quest'anno la produzione? L'andamento stagionale primaverile ha ostacolato l'allegagione e quindi noi ci siamo trovati con una quantità di prodotto sicuramente inferiore rispetto agli altri anni. Riuscite a quantificare questo calo di produzione nella vostra azienda? Nella nostra azienda sicuramente per quanto riguarda la quantità siamo nell'ordine di un 20-30%, sicuramente in meno per quanto riguarda la produzione. Voi fate sia serra che pieno campo? Noi facciamo coltivazioni forzate, coltivazioni semiforzate e pieno campo. L'inizio della produzione è i primi di giugno, si inizia la raccolta e andiamo avanti fino al 10 di ottobre. I prezzi come sono stati? I prezzi se vogliamo, ecco noi quest'anno ci siamo avvicinati sicuramente a quelli che sono i costi di produzione. I costi di produzione che si aggirano intorno a 1 euro, 1 euro e 10 per quanto riguarda le coltivazioni forzate, intorno ai 50-60 centesimi per quanto riguarda le coltivazioni semiforzate e pieno campo. Voi quali fasi della filiera ricoprite nella vostra azienda? Noi riusciamo a coprire tutte le fasi della filiera produttiva, compreso la parte iniziale della preparazione delle piantine e naturalmente anche quello che riguarda il condizionamento, quindi la lavorazione, la sistemazione dentro le cassette, persino il trasporto diciamo viene fatto con mezzi propri dell'azienda, quindi fino a destinazione finale. Attualmente quali sono i vostri canali commerciali? La grande distribuzione, abbiamo anche i mercati generali all'interno dei quali abbiamo dei commissionari che vendono il prodotto per noi. Per quanto riguarda il confezionamento e il vostro marchio come funziona? Ogni frutto che esse dalla nostra azienda è bollinato, quindi viene messo un bollino di riconoscimento. Quando chi mangia il melone lo trova buono, il giorno dopo va dal fruttivendolo, va al supermercato e richiede praticamente lo stesso prodotto. Ma il vostro marchio, quello dell'azienda Preti, non vi è bastato? Avete pensato anche di entrare nel consorzio del melone mantovano. Come mai questa scelta? Sicuramente insieme al consorzio del melone mantovano, visto che siamo nella stessa area e abbiamo la stessa tipologia di terreno, la stessa tipologia varietale, le stesse caratteristiche eccetera, sicuramente insieme ad altri produttori abbiamo la possibilità di imporre il nostro prodotto non tanto a livello nazionale, quindi emiliano, romagnolo, lombardia, piemonte eccetera, quello che è il bacino di utenza del nostro prodotto, ma io penso che basterebbe solo far mangiare un frutto in più ad ogni tedesco o ad ogni inglese che noi potremmo sicuramente aumentare nella produzione e nell'investimento e sicuramente migliorare la vendita dei nostri prodotti. Quindi insieme ad altri avremo sicuramente la possibilità di raggiungere questi mercati europei, visto il discorso globale eccetera, da solo la nostra azienda non riesce a raggiungere questi obiettivi. E per saperne di più su questo consorzio del melone mantovano invitiamo qui con noi il presidente che è Mauro Aguzzi, benvenuta da Grest, quando nasce questo consorzio? Allora il consorzio è nato nel 2004, si è costituito alla fine del 2004, praticamente all'inizio era composto da due province che era Mantua e una parte della provincia di Cremona. Successivamente, visto le molte richieste anche di altri produttori delle province limitrofe che hanno terreni vicino praticamente, che confinano con l'area geografica che avevamo stabilito, abbiamo deciso di allargare la zona di produzione e abbiamo permesso anche alle aziende che sono in province di Modena, Bologna e Ferrara di entrare nel consorzio, avendo così una maggiore quantitativa disponibile di ettari a disposizione per poter affrontare, come diceva il signor Preti prima, anche il discorso europeo. Quanti sono attualmente gli ettari che ricadono sotto il consorzio? Attualmente sotto il consorzio sono circa 2.500-2.600 ettari, più o meno in questa annata qua. Le aziende consorziate sono 46, tra cui tre cooperative. I comuni della provincia di Ferrara che aderiscono al consorzio quali sono? Sono il comune di Bondeno, il comune di Cento e il comune di Sant'Agostino. Raggruppano 5-6 aziende dei tre comuni di una discreta importanza, più le due cooperative che sono la Pofruit e la Grintesa. Quali sono le caratteristiche del melone mantovano che poi comprende un areale un po' più ampio di Mantova? Il melone mantovano diciamo che si è imposto negli anni per le sue caratteristiche qualitative. Qualità che è data prevalentemente dalla zona, dai terreni, dalle tipologie che all'inizio si erano scelte per la coltivazione e dalla buona pratica agronomica e sicuramente degli imprenditori che in questi 40 anni di produzione hanno affinato sempre di più selezionando ibridi sempre più resistenti anche alle patologie per poter andare sempre con una minore quantitativa di prodotti antiparassitari per dare un prodotto sempre più sano e sempre più buono al consumatore. Quali sono le tipologie e le varietà di riferimento del melone mantovano? Abbiamo la tipologia cantalupo irritato con la fetta che è la tipologia di maggior coltivazione sicuramente del melone mantovano e anche a livello nazionale sicuramente il melone che è maggiormente coltivato in Italia. Poi abbiamo la tipologia liscia che è la tipologia on a moon che rappresenta circa un 25-30% del prodotto del melone che si coltiva e poi abbiamo la tipologia retata senza la fetta, tipologia Harper che è il melone che è il capostipite che si faceva in questa zona e che è praticamente quello che adesso si coltiva un po' di meno però è quello che ha dato le caratteristiche organolettiche ai suoi successori. Ci sono delle caratteristiche anche che deve avere come il grado Brix, il peso? Il melone per essere marchiato deve avere un minimo di 12 gradi Brix per avere il marchio IGP. Nel nostro disciplinare abbiamo stabilito alcune regole tra cui questa, poi i frutti devono essere calibrati, devono essere puliti, sani come una minima norma igienica e devono essere confezionati e lavorati nella zona di produzione. Quindi tutto deve avvenire nella zona di produzione per poter garantire poi al consumatore un prodotto il più fresco possibile. Il marchio IGP esiste già? Allora, attualmente non esiste ancora. Diciamo che c'è una richiesta al Ministero per ottenere l'IGP. Sicuramente entro la fine dell'anno avremo una pubblica audizione per avere la protezione transitoria del Ministero e dopodiché il Ministero porterà la domanda in Comunità Europea. Cosa ci guadagnano gli agricoltori a farne parte? L'obiettivo principale è sicuramente quello di ottenere l'IGP e di dare con questo marchio sicuramente un valore aggiunto al prodotto, oltre che a valorizzare un territorio che negli anni si è distinto grazie anche a questo frutto che si è affermato in queste zone. L'IGP sicuramente è un mezzo che permetterà alle aziende tutte insieme di affrontare mercati esteri. Attraverso l'IGP questo può avvenire anche con le aziende più piccole. Quindi l'appuntamento è tra quanto? Tra un anno probabilmente? Ci auguriamo, almeno a livello ministeriale, che la prossima campagna sia positiva sotto il profilo della protezione transitoria. Dopo in Comunità sicuramente ci vorranno ancora due anni. Nella migliore delle ipotesi nel 2012 avremo l'IGP europeo.